Buonasera, mi chiamo Marco, scusate, ho fatto un po' di parlare davanti a tanta gente. Allora, io sono un pedolare che va tutti i giorni in Nova Milano. Abbiamo visto la realtà dell'alta velocità su Milano che ha tolto a gran parte delle persone la possibilità di fare, non so, Alessandria Firenze, Alessandria Polonia direttamente, ma devi andare fino a Milano a prendere il pedolo di... Vabbè, l'altra cosa, la frecciatezza. Quindi già hanno eliminato delle possibilità alle popolazioni. Noi tra poco ci eliminano anche la possibilità di prendere i treni pendolari, quindi non sapremmo nemmeno come andare a lavorare, tutto in funzione dell'alta velocità. Non sanno più cosa dire, una volta dicono andate in treno così togliamo la gomma, adesso dicono andate in pulma così togliamo i treni pendolari, che sono treni e cui sono un costo, ci perdiamo. In pratica ci tolgono tutte le possibilità di trasporto, però ci fanno pagare il trasporto. quindi l'ennesimo esempio che questa alta velocità toglierà ogni possibilità, non solo locale, ma anche nazionale, di permuoversi. Grazie. 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 Grazie.